Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela. Oggi parliamo dei gigli. Il giglio, noto anche come Lilium, è una pianta bulbosa perenne della famiglia delle Liliacee. Il giglio è originario dall'Europa, dall'Ase e dal Nord America. Le foglie di questa pianta sono posti alla base del fusto in ordine sparso ed hanno la caratteristica di essere lanceolate e con venature parallele. Il giglio è solitamente coltivato per uso ornamentale, è infatti una pianta che produce un fiore davvero delizioso, che adorna giardini, aiuole o terrazzi. È un fiore che non presenta particolari difficoltà per quel che riguarda la sua coltivazione e anzi uno dei fiori in assoluto più semplici da coltivare, ma che a fronte di una cura davvero minima garantisce un grande risultato. La migliore zona di esposizione per un giglio è la mezzombra. Se messo in una posizione del genere, il vostro bulbo darà dei risultati meravigliosi, con fantastiche e ricchissime fioriture che faranno la felicità di chi ha coltivato la pianta. Un altro fattore da considerare nella scelta del luogo ideale dove sistemare il vostro giglio è quello di posizionarlo in una zona ben riparata dalle correnti d'aria e da venti forti, i quali danno un estremo fastidio alla vostra piantina, che potrebbe risentirne nella sua crescita. Ama un terreno ben drenato, soffice e non troppo asciutto, che sia in ogni caso ricco di sostanza organica che possa nutrire il bubo stesso. Se coltivate in vaso usate uno strato di argilla oppure utilizzate della sabbia nel composto. Il giglio deve essere irrigato con grande frequenza nel periodo della fioritura, lasciando però asciugare terreno tra una irrigazione e l'altra. Man mano che ci si avvicina a giugno è bene cominciare a diragare la frequenza con la quale si irriga, fino a sospenderle completamente da metà luglio fino a settembre. I bubbi vanno messi a dimora in primavera o in autunno. Ogni bulbo va interrato a una profondità di almeno 10-15 centimetri e soprattutto a una distanza di almeno 2 centimetri l'uno dall'altro, questo per evitare che le piante crescendo vadano a soffocarsi a vicenda. Se piantate il vostro bulbo in autunno è un'idea davvero molto buona quella di utilizzare un maggior strato di concime. Questo darà maggiore spessore al terreno e avrà il duplice beneficio di nutrire maggiormente la pianta e proteggere il bubo stesso dal freddo intenso dell'inverno. Il giglio, essendo tra le altre cose una bulbosa delle radici perenne, non necessita di rinvasi frequenti se non ogni 4 o 5 anni. Però se avvertite la necessità di rinvasare la pianta fatelo o in primavera o all'inizio dell'autunno. E' preferibile inoltre annaffiare i gigli durante le prime ore del mattino. Questo piccolo accoggimento servirà a diminuire la probabilità che la vostra pianta possa essere attaccata da fastidiosi funghi o parassiti. Ricordatevi che spesso sono proprio queste piccole ma necessarie azioni che fanno la differenza tra una buona fioritura e un'ottima fioritura. Il giglio va concimato nella fase della ripresa vegetativa con un concime specifico per piante liliacee. Il giglio si propaga attraverso bulbilli quindi cercato ogni anno di togliere dal terreno i bulbilli e metterli in un luogo fresco e asciutto sino alla primavera quando potrete interrarli. Se lasciate i bulbilli dove sono c'è il pericolo che il troppo affollamento possa infine soffocare il bubo piantato in origine. E per finire una curiosità. Nel linguaggio dei fiori il significato del giglio varia a seconda della colorazione. Il giglio bianco simboleggia la purezza e la regalità dell'animo. Il giglio giallo simboleggia la nobiltà. Il giglio rosa simboleggia la vanità. E il giglio arancio o rosso la passione. Con questo bellissimo giglio io vi saluto. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici. Se avete delle domande non esitate a contattarmi nella mia pagina facebook di cui trovate il link in descrizione. Non mi rimane che salutarvi e come dico sempre alla fine di ogni video. Ciao e una buona giornata a tutti.